Ho appena firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Campania. Ho così accolto la richiesta del Presidente di quella regione allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nei campi flegrei dopo l'evento sismico del 20 maggio scorso nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto. Lo annuncia il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Per meglio operare nella difficile situazione aggiunge il nostro Dipartimento a sicuro e coordinamento dell'intervento del Servizio Nazionale della Protezione Civile a supporto delle strutture regionali allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso ai cittadini coinvolti. Al tempo stesso, continua il Ministro, stiamo lavorando con i ministri interessati per competenza ad un'attenta ricognizione delle risorse finanziarie necessarie ai primi interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni civili, a cominciare da quelle ricadenti in zone ad elevato rischio sismico in area bradisismica. Musumeci fa poi sapere di avere anche disposto un potenziamento e un'accelerazione del lavoro dei tecnici di ricognizione della vulnerabilità del costruito, sebbene sappia quanto siano complesse le procedure. L'unico obiettivo del governo, come ho sempre detto, ribadisce il Ministro, è quello di restituire la possibile serenità a quanti abitano sui campi fegrei, purché consapevoli delle criticità con le quali convivono. Conclude Musumeci.